Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, questa mattina sono mattiniero, ore 8 e 10, sono già in diretta con queste pagine di giornale che questa mattina trattano temi differenti, chi parla della guerriglia, di questi tedeschi tifosi, se così si possono definire tifosi e tedeschi che sono venuti in Italia a distruggere una città come Napoli, ha le banche che stanno saltando, stanno crollando le borse e le banche, ha questa sfida tra la Meloni e la Schlein, una sfida che c'è chi dice che è vinta dal Meloni, c'è chi dice che è vinta dalla Schlein, per me è persa semplicemente dagli italiani, perché queste cose discutono invece che pensare a cose giuste e buone per noi. Buongiorno a tutti, attento che siate collegati, ciao Teresa, ciao Cinzia, buongiorno, inizio a vedere le prime di voi, non vedo in verità ancora quanti collegati ci siano effettivamente, però visto che l'algoritmo si sta sbloccando, vi do un buongiorno, un caloroso buongiorno a tutte e a tutti, augurandovi un buon caffettino, bello caldo, oggi è giovedì 16 marzo, mancano solo 13 giorni al mio mega compleanno, io li compio il 29 marzo, 49 anni quest'anno, quasi 50 anni, sono quasi un 50 anni amici, gli anni passano per tutti, stendiamo un velo pietoso sulla mia età e andiamo sulle pagine principali di oggi, partiamo proprio dal mattino che tratterà sicuramente, tratta in effetti la guerriglia, quello che è successo a Napoli per la partita tra il Napoli e questa squadra tedesca, la guerriglia dei vandali, c'è chi dice 600 e chi dice 300, comunque una manciata di ultras tedeschi che devastano il centro storico, pensate 10 agenti feriti, danni ingenti, scoppia la polemica, festa al Maradona, però il Napoli travolge questa squadra tedesca mandandoli a casa con un bel 3-0, traguardo storico è tra le prime 8 d'Europa, quindi un applauso ai tifosi napoletani, o meglio alla squadra napoletana e un bu ai tifosi violenti, magari ce ne saranno anche dall'altra parte, però io lo dico onestamente, gente che senza biglietto si presenta a Napoli e senza biglietto gironzolando per la città con delle molotov all'interno degli zainetti, tanto Santarelli non sono, quindi che non ci provino i soliti pidini a difendere i tedeschi solo per dar contro all'Italia. Abbiamo il faccia a faccia in Parlamento, Menoni-Glein, duello su sbarchi e salario minimo, parole, io ho visto il dibattito, parole a mio parere esagerate della Glein che ha voluto fare dei gran bonismo, dei gran bonismo, super bonismo cinema show e la Menoni che la deris, la guardava dicendo ma che cosa dice questa qua. A me no, sinceramente l'atteggiamento della Glein non mi piace, anche perché bravi a parlare, ma vorrei vedere cosa farebbero loro per questi migranti, al di là di metterli all'interno di capannoni in tanti o farli dormire nelle favelas italiane e poi darli in mano alle cooperative a 3 euro l'ora, questo è il massimo di quello che hanno fatto fino ad oggi i pidini. Panico sui mercati, banche rotte, non solo sub, crolla in borsa, credit suisse e trascina ribasso le piazze europee, cresce la paura del contagio. Io pongo una domanda da ignorantissimi, ignorante, guardate i miei amici e amiche, vorrei un vostro commento, ma quando sono state fatte le sanzioni alla Russia un anno fa e gente come Letta, i pidini, dicevano pochi giorni la Russia sarà finita e dopo un anno la Russia è ancora in piedi, continua a avere armi, noi abbiamo le banche tutte messe da panico, siamo proprio sulla linea di pericolo tra rimanere aperte e chiudere e fallire dagli Stati Uniti che stanno fallendo all'Europa. Alla fine forse chi aveva ragione, chi ha vinto questa guerra di sanzioni? Il dubbio è lecito, anche se la risposta è chiara, ha vinto la Russia, ovvio. Belloni in linea dura contro l'opposizione, calugne su cutro, con me mai il mess. Napoli a ferro e fuoco, anche il giornale richiama quello che è successo, Napoli farà fuoco con questi tedeschi carini e gentili. Si vede proprio, e questa è proprio la motivazione valida per rimanere in Europa, rimanere in Europa, questo è giusto per rimanere in Europa. Scusate mi è scappata la mano, mi è scappata la mano, come dire, fughiamo, fughiamo. La prima sfida della Schlein 1-0, palla al centro, Meloni Schlein 1-0 a favore della Meloni secondo Libero. E li attacca sui salari bassi, Giorgio ribatte, colpa del PD, ed è vero, è verissimo, colpa del PD e dei sindacati che non hanno fatto niente in questi anni. Nulla, nada, zero più totale e sua economia emigranti non arretra. Ecco la riforma fiscale del governo, Ponte di Messino, ora si parte, infatti del momento partirà il Ponte di Messino, attenzione perché potrebbe arrivare, io ho il timore che arrivi un asteroide, perché se facciamo il Ponte di Messino arriva un asteroide sul ponte, col culo che abbiamo noi, quindi crolla il credit Sisse anche qua, attenzione, Milano perde il 4,6%, 4 l'altro giorno, 4,6 oggi, mamma mia, siamo messi da panico, panico totale. Cambiamo quotidiano, cambiamo quotidiano, anche Repubblica, valanga Svizzera sui mercati, coloro della borsa dell'istituto, vetico per il suo no, mamma mia, mia, Fisco Randini contro il governo, gare del PNRR il 70% senza quote per donne e giovani. Amici qua si rischia veramente un crack totale, crack totale, Beloni e Schlein due all'inaura, sottolineare il minimo dei diritti, mentre intanto queste discutono tra di loro. Tifosi tedeschi devastano Napoli anche per il quotidiano Repubblica, il quotidiano nel mirino, il tracollo del Credit Suisse, mamma mia, invasione barbarica annunciata, guardate il titolo del Carlino, i tifosi tedeschi, bello il titolo del Carlino, invasione barbarica annunciata, l'ordine pubblico non è un gioco, daranno la colpa a piante e dosi anche questa volta, non sapendo cosa dire, per giustificare i tedeschi, eh Piddini, Piddini, ditelo ai Piddini, colpa di piante e dosi, i tedeschi vengono con delle molotov negli zainetti e colpa di piante d'oggi, quando lui aveva detto non datevi biglietti, non fatevi venire e il Tar alla fine della campagna ha deciso di farvi venire, quindi stendiamo un velo pietoso, ma difendiamo in questo caso il ministro degli interni che nulla c'entra. Difendiamo gli interessi italiani, dice il tempo, Meloni in Parlamento, premia l'attacco sui migranti, chi ci critica non dice una parola sugli scafisti, ovviamente, la scelta verde dell'Europa non deve distruggere l'industria messa e utile agli stati, scelta verde distruggerà tutto, è ovvio, Scintille con la segretaria Pd vive in un mondo ideale, io sono pragmatica e la segretaria Pd nel suo mondo ideale, io gli direi, cara Slide, perché non dai buon esempio e prendi sei, visto che sei piena di soldi, hai le proprietà, tutto quello che vuoi, prendi nella tua bella famiglia benestante qualche emigrante e aiutalo, dallo come esempio, io ho un modo per risolvere il problema dei migranti, siete un milione di iscritti, 500, 150, quelli che siete iscritti al Pd e sostenitori, invece che andare nelle piazze a non fare niente, voi mettete a disposizione tutti, ognuno di voi, la casa per uno o due migranti, abbiamo risolto problemi di immigrazione, sappiamo dove metterli, li prendete a casa, li mantenete e abbiamo risolto il problema, così oltre a fare i falsi monisti diventate dei veri buoni, questa è la differenza, ma dubito che farete qualcosa, perché a parlare siete bravi, ma predicate bene e razzolate malissimo, sconto fra conto e la GLAIN per intestarsi il salario minimo, roba che è la prima volta che ho parlato del salario minimo, allora sì, allora perché non hai fatto quando eri al governo, questi qua mi stanno discutendo per chi è, il salario minimo ragazzi non lo avete detto né uno né l'altro, se volete sapere, sono degli anni che lo dicono i dipendenti che vorrebbero un salario minimo, quindi toglietevi questa cosa qua, non prendetevi dei meriti, perché il salario minimo lo chiedono i dipendenti da anni e anni, voi non avete inventato niente e detto niente, zitti, muti, questa è la verità. Credit Suisse va a tremare le borse, il socio saudita della banca nega la liquidità dell'istituto, vi prendete dei soci sauditi che potrebbero non darvi la moneta quando è necessario e mo' si rischia di fallire, si rischia di saltare, si rischia di andare in crisi in ginocchio, poi da banca a banca cambia la difficoltà, però anche voi che siete belli grossi avete un po' di difficoltà sulle spalle, è vero, è un po' di fatica a portare il peso. Vabbè, andiamo a capire cosa dicono la verità, chiudiamo con la verità, poi vado via, poi vado via, dopo l'Unione Europea il PD attacco alla casa, il governo prepara le barricate contro il patrimoniale Green, che è veramente una patrimoniale. La Gelain, perdonatemi, rilancia un pallino del suo partito, espropriare le abitazioni private non affittate e consegnare a chi non riesce a ottenere alloggi popolari. Il prefetto, è tutto vero, il prefetto di Ferrara vuole fare lo stesso per ospitare gli estracomunitari, è la solita tassa sui buoni statalisti. Complimenti a chi vota e ha votato PD che si affida a questa gente, 600 tifosi tedeschi devastano Napoli, bravissimi, che verranno difesi dal PD. Crolla pure Credit Suisse, borsa alle corde, il fallimento, e poi parlano di questo rischio fallimento, anche il rischio crisi totale delle banche europee, dove le americane stanno già iniziando a fallire e potrebbe anche arrivare questo virus bancario anche in Europa, anche in modo pesante. Vabbè, detto questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, avete visto, alcuni di voi diranno, ma Robby tu ce l'hai sempre contro il PD? Sì, ce l'ho contro il PD, ce l'ho contro il PD perché hanno distrutto la nostra bella Italia, in vent'anni al governo, perché alla fine volenti o non volenti, vent'anni che comandano loro, sono riusciti a distruggere il nostro bel paese. Non puoi più girare per strada, c'è gente che spaccia e violenze e le ruba e scippa, e i PD cosa fanno? Il massimo che riescono a fare è difendere le scippatrici, difendere i clandestini e gli spacciatori, difendere i tifosi magari tedeschi che devastano Napoli, ma mai nulla a favore degli italiani. Svegliatevi italiani, svegliatevi, il PD non fa per noi, non rappresenta l'Italia. Ciao a tutti e buona giornata, vi voglio bene!